Ciao ragazzi e benvenuti in questo terzo tutorial Oggi vedremo come funzionano gli NPC in generale Quindi gli sciatori, i pedoni e il traffico Spero che vi possa tornare utile Se è così lasciate un like ed iscrivetevi e iniziamo Allora, come primo vi faccio vedere i pedoni Che appunto è una cosa abbastanza semplice Perché vi basterà andare qui su più E mettendo il coso qui potete gestire una zona pedonale Date il nome del gruppo, in questo caso faccio Byta1 Dopo potete iniziare a costruire il tutto Quindi tutto il percorso Adesso qui faccio una cosa abbastanza semplice Poi ovviamente potete anche restringere la tratta Come volete e fare varie cosette Adesso qui è un pochettino un casino Perché è una zona abbastanza stretta Però comunque si riesce a fare un percorso carino diciamo Ecco poi se fate così potete anche mettere dei punti centrali In questo caso finisco così Quindi a parte i pedoni molto semplice Vi basterà creare il percorso E ci saranno i pedoni che gireranno qui sul percorso Secondo, adesso passiamo al traffico Anche qui è abbastanza semplice Perché vi basterà creare il gruppo Dagli un nome, in questo caso faccio strada provinciale Dopo potete iniziare a creare il percorso Mi raccomando, siete attenti perché le auto Cercano di fare le curve un po' più strette Quindi in alcuni punti bisogna stare un po' più attenti In questo caso faccio un percorso abbastanza semplice Dopo potete farlo andare su tutte le strade Ad esempio qui che c'è la malga Potreste fare uno svincolo E fare che l'auto vadano sopra ad esempio Questa è qua un'ipotesi Ma vedete le macchine seguiranno il percorso poi Poi ovviamente potete anche regolare la velocità Quindi in questo caso ad esempio In un incrocio potreste semplicemente diminuirla Fare qua tipo 30, non so Così rallentano le macchine E non si ribaltano Oppure la velocità potete anche abbassarla verso le curve Tipo qua siamo in prossimità di una curva Quindi la basso a 30 In modo che non si ribaltino i veicoli Così potete fare dopo tutte le strade Tutti i percorsi che vi servono Bene adesso passiamo al terzo e ultimo Ovvero quello degli scettori Che è anche quello un po' più complicato Infatti dovrete fargli seguire solo le piste Per farlo come funziona Bisogna praticamente prendere Fare new appunto E qui vedete Auto info layer E qua lo riconosce Mi raccomando dovete farlo passare solo sugli info layer Qui ad esempio faccio partire dalla seggiovia E gli faccio fare un bel percorso In questo caso gli faccio seguire la pista Poi mi raccomando Se volete che i scettori possano salire O scendere dagli impianti Dovete mettere connect to entry lanes Quale riconosce Quindi si connette Dopo potete andare avanti In questo caso io lo faccio andare avanti Giù di qua per la pista Ferrari Però gli faccio fare anche una deviazione Così Quindi a largo gli faccio seguire anche questo pistino Che passa qua sotto Ok Eccomi qua Adesso sono arrivato alla fine Quindi dovrò far arrivare La parte dell'info layer degli sciatori Qui alla seggiovia In questo caso siccome sarà un punto di svincolo Ne farò uno che va giù di qua verso la seggiovia E un altro che prosegue A quest'altra seggiovia In questo caso intanto faccio soltanto il primo Poi qua vedete che l'info layer finisce Quindi in caso dopo potete allungarlo Fino all'ingresso da seggiovia Io ve lo consiglio Anche perché così è più bellino La pista Adesso colleghiamo Adesso fatto Ho collegato Quindi la prima pista è fatta E già qua scendono gli sciatori Poi vabbò adesso è chiusa Però Quando sarà aperta Verrà presa degli sciatori Beh niente Spero che questo video vi sia piaciuto E specialmente vi sia utile Se è così lasciate un like Iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video